Dopo la presentazione della Fano Visit Card dedicata ai servizi per i turisti, alcuni albergatori hanno avanzato il disappunto sulle tempistiche e sull'applicazione della nuova tassa di soggiorno. Polemiche che hanno sorpreso l'assessore Ettye Lucarelli, visto che di questo percorso se ne parla da tempo e in accordo con tutte le associazioni di categoria. Per l'assessore sarebbe quindi necessario istituire un consorzio del turismo, un soggetto più autorevole e capace di operare non solo per Fano ma per l'intera vallata insieme a tutti gli operatori del settore. Gli alberghi consorziati, ha dichiarato tramite una nota, non sono più in grado di rappresentare gli interessi dei propri associati. Sentiamo. In questi giorni abbiamo presentato un progetto molto importante della città, sono arrivate delle indicazioni proprio nel momento della presentazione dagli operatori, anche con molta sorpresa perché indicazioni che non erano mai arrivate fino ad oggi. Ecco, devo dire che proprio da qui ci si accorge che la nostra città ha bisogno di fare un passo, una crescita da questo punto di vista. Serve anche probabilmente creare un progetto nuovo. Ovviamente abbiamo un'interlocuzione aperta con le associazioni di categoria, col tavolo economico, ma serve anche una maggior partecipazione di tutti gli operatori, in questo caso di tutti gli operatori alberghieri, di tutte le strutture ricettive, anche dei crescenti bed and breakfast e case vacanza che riportano le necessità al tavolo economico, all'ufficio turismo e che insieme si possa fare un passo di crescita perché ormai quando si parla di turismo significa fare progetti comuni, riuscire a crescere insieme, fare progetti che il turista possa conoscere per vivere meglio la nostra destinazione. È da qui che nasce l'idea della Fanocard, è da qui che nasce già da ottobre l'intenzione di applicare l'aumento dell'imposta di soggiorno per aumentare questi servizi. Per cui ecco, credo che a oggi le attuali strutture magari siano obsolete e magari sarebbe utile pensare ad un consorzio turistico come accade nelle migliori località di destinazione turistica che comprenda proprio la nostra istituzione con le associazioni di categoria, con l'associazione degli operatori, con i rappresentanti sindacali, con alcuni operatori, perché la città ha bisogno di dialogare insieme per far crescere il turismo.